Non si placano le polemiche sulla sospensione del centro antiviolenza e il volo delle farfalle da parte del piano di zona S8. Dopo il recente botta e risposta fra Monia Monzo, ex coordinatrice del centro, e Antonio Aloia, sindaco di Vallo della Lucania, comune capofila del piano di zona S8, è intervenuto sulla questione anche il consigliere provinciale Roberto Celano. Quanto sta accadendo al piano di zona S8 di Vallo della Lucania è vergognoso e biasimivole. I responsabili del suddetto piano di zona hanno di fatto definanziato il centro antiviolenza con la sospensione del servizio e la mancata conseguente proroga dei contratti per chi da anni, meritoriamente, si occupa di un'attività sociale assolutamente insopprimibile. Si è tentato goffamente di sopperire a tale nefandezza incaricando del servizio il segretariato sociale, in barba all'assenza dei requisiti previsti dal catalogo regionale dei servizi e dalle incompatibilità sancite dai protocolli nazionali ed internazionali. Celano tuona così contro il piano di zona S8, accusato di essere gestito in modo opinabile da chi muove i fili, ma ne è incapace. Parole dure che rispecchiano anche il pensiero di molti riguardo a una questione particolarmente delicata che sta creando non poche polemiche contro il piano di zona ed il sindaco di Vallo della Lucania. Inoltre, negli scorsi giorni, il piano di zona ha pubblicato un comunicato stampa riguardo le infondate voci sulla sospensione del centro antiviolenza, definendolo ancora in attività e con un nuovo personale all'interno. Per verificare tale veridicità delle dichiarazioni, ci siamo recati alle 15.30 presso uno degli sportelli, ma sfortunatamente lo abbiamo trovato chiuso e al suo interno non era presente nessuno del personale. A quanto pare il centro non è in attività e attendiamo chiarimenti al riguardo da parte di chi è incaricato di risolvere una questione che sta diventando sempre più scottante.